Ora aperta tra le due squadre vedremo chi la spunterà ma adesso l'Azzurra vuole subito testare il proprio protagonista di questo campionato Azzurra imbattuta, Azzurra Novara imbattuta nella passata stagione in A2 ma adesso siamo in A1 C'è tutta un'altra musica, tutto un altro livello A2 minuti e 8 secondi, ancora fermo il punteggio ma c'è il gol di Vega, il primo gol del campionato, lo segna Usa cerchio di centropista, Vega in controtempo e allora riparte il forte che si distende e pareggia i conti con questa rete Patricio Epinesar, Torner e il gol del 2-1 del forte dei Marmi che è andato a segno ancora una volta All'appuntamento con la pallina, poi Torner, Patricio Epinesar e c'è il gol del forte che segna la terza rete 3-1 per il forte dei Marmi quando siamo giunti al Patricio Epinesar Intercetta Magnero che è pro Francisco Epinesar Ancora Francisco Epinesar per Torner, il fraseggio veloce dei Rosso e Blu Che vanno a segno, ancora una volta la sfera La squadra del forte, fermata, poi ancora Quattroocchi La girata che dà il luce, 4 secondi alla fine Ci prova Bruso dalla distanza, finisce con regalarla Riparte Petrocchi, il tiro di Petrocchi Rosso-Blu recupera la sfera Magnero e promozione, allenata da Sergio Ponsetta Spettacolare, Francisco Epinesar Francisco Epinesar, il fraseggio del forte dei Marmi che viene fermato C'è il contropiede di Patricio Epinesar e c'è il gol di Ambrosio Gol di Ambrosio di Scarso Granados, serve Borgo La sfera, adesso c'è spazio per un contropiede, Novarese, Petrocchi Ortizzi, gol, 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 gol Serve Petrocchi, il tiro di Petrocchi, la parata, il movimento a disposizione di Sergio Ponsetta Mentre invece più limitati, copre una bella pallina con un contrasto molto deciso Prusa, in mezzo De Gerone che gestisce l'ultimo passaggio di palla Tre secondi, due secondi, un secondo Si accontenta di tenere la sfera Ambrosio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti